Allora Manuel, bella ma soprattutto importante la vittoria di Monopoli, era a mio parere decisivo vincere per conquistare questi tre punti su un campo difficilissimo, l'avete fatto soffrendo poi neanche tanto, una vittoria importante. Sì, Monopoli è un campo molto difficile, una buona squadra, sono arrivati domenica con un allenatore nuovo, vecchio ma nuovo, quindi c'è sempre un po' di entusiasmo e si è visto i primi dieci minuti che ci hanno messo un po' in difficoltà. Però dopo siamo riusciti a tirarci fuori, abbiamo fatto il nostro gioco e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Era importante, soprattutto quest'anno, partire bene, abbiamo fatto tre partite, sette punti, due partite fuori casa, quindi siamo sulla via giusta. L'anno scorso forse abbiamo fatto più fatica all'inizio stagione, comunque stiamo lavorando bene e abbiamo fatto capire che quest'anno ci siamo pure noi. Sì, dicevi appunto, l'importante è partire forte, in qualche modo era l'obiettivo di inizio stagione, il fatto che peraltro ci fosse anche continuità con la vecchia stagione faceva sì che il Catanzaro potesse partire forte. Ti chiedo se magari, alla luce di questa partenza forte, quei due punti a bisceglie un po' stonano, il fatto di non aver potuto vincere, purtroppo un po'... Sì, certo, volevamo vincere, più che altro da fastidio come è andata la partita, perché li abbiamo messi là veramente per 90 minuti, abbiamo creato tante occasioni e non siamo riusciti a vincere questa partita. Però adesso, dopo tre partite, posso dire che dopo due partite fuori casa, bisceglie e monopoli, quattro punti sono comunque un ottimo bottino. Sì, ciao Manuel, tu che sei stato uno dei protagonisti della passata stagione, quest'anno tra l'altro ti sei visto entrare subito in modo pimpante in campo, come vedi questo Catanzaro proiettato in questo campionato dove c'è anche squadre di una certa caratura, ben attrezzate? Sì, è un campionato molto difficile, secondo il mio punto di vista più difficile dell'anno scorso, che ci sono squadre come il Bari, come l'anno scorso Catania, Regina, e la Ternan che è arrivata dall'altro girone, sono tutte squadre forti, però noi siamo un di quelle 4-5 squadre che secondo me possono vincere il campionato. Abbiamo la fortuna che ci conosciamo dall'anno scorso, quindi forse quello è un po' la differenza dell'anno scorso, che ci conosciamo già, sappiamo quello che vuole il mister, e anche grazie a quello stiamo rendendo subito. Vi dà un po' di fastidio il fatto che la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, fra le favorite, mettono sempre il Bari, poi soprattutto Regina, Catania e Ternan, il Catanzaro viene nominato sì, ma non quanto anche dovrebbe essere nominato? No, secondo me non deve darci fastidio, anzi deve darci una motivazione in più per far vedere che ci siamo anche noi che vogliamo essere più forti di quelle squadre. Noi sappiamo che possiamo dire la nostra, sappiamo che siamo una buona squadra, c'è un bel mix tra ragazzi dell'anno scorso e ragazzi che sono arrivati quest'anno, che sono ambientati subito bene, quindi non dà fastidio, è più che altro una motivazione in più. Hai saltato le due gare di Coppa Italia, hai saltato la prima di campionato per problemi fisici, poi sei entrato a Bisceglie, è subito in gol, ottima partita anche a Monopoli, soprattutto nel primo tempo, ancora evidentemente non hai 90 minuti nelle gambe, quando è che pensi di poter raggiungere il 100% della condizione? Sto lavorando settimana a settimana per tornare in forma piena, a Bisceglie sono entrato dopo che non ho giocato per quasi tre mesi, l'ultima partita era quella di Sallò ai play-off, poi col mister non facciamo neanche amichevoli, quindi non era facile entrare e trovare subito le misure giuste, però la voglia di entrare e di far subito bene c'era, fisicamente sto bene, forse non sono ancora al top del top, però sono convinto che nelle prossime settimane ci arriverò. E hai ricominciato dove hai finito? Sì, sono stato bravo, fortunato che la palla mi è rimasta là e sono riuscito a buttarla dentro e sono contento anche per quello, poi noi attaccanti certo che vogliamo fare sempre gol, però una volta tocca uno, una volta tocca un altro, siamo in tanti e in un campionato lungo e difficile come quest'anno servono tutti. Senti? Secondo me sì, non mi sono buttato, mi ha proprio calciato sì, l'arbitro ha detto che era simulazione, però non mi sembrava, comunque meno male abbiamo vinto e non ci pensiamo più. Senti, te l'avevo chiesto già alla fine di Bichet e te lo richiedo oggi, tu se vieni da un'annata precedente molto positiva, insomma 14 gol, adesso mi immagino che il tuo obiettivo sia fare meglio, non sarà semplice per tutta una serie di motivi, compreso la grandissima concorrenza che c'è in questa squadra, siete 8-9 attaccanti, da questo punto di vista bisognerà farsi trovare pronti quando il mister vi chiamerà in causa? Sì, diciamo normale, a livello personale l'anno scorso ho fatto bene, voglio confermarmi, voglio far vedere che non ero in caso, sì siamo tanti davanti, però c'è una concorrenza molto sana, ci aiutiamo a vicenda, per quello non vedo un grosso problema, sicuramente toccherà a tutti giocare, il mister ovviamente cambia sempre anche quello davanti, quindi giocheremo tutti e speriamo di fare tutti bene.